Gela ha oggi un'amministrazione in carica sicuramente più stabile rispetto ad un anno fa, forte proprio dei risultati che sta raccogliendo in ogni ambito di intervento, in cui è inciso con determinazione e capacità di mediazione democratica nei confronti di tutti gli interlocutori, con cui ha condiviso un percorso per il rilancio del ruolo baricentrico che la città ha nel contesto politico-economico siciliano nel Mediterraneo. Il vice sindaco simone siciliano ha preso carta e penna in merito all'avvertenza Gela, rimarcando alcuni concetti. L'esponente della giunta messinese dice che i buoni propositi di partiti, gruppi e comitati spontanei non possono rappresentare la traduzione di un messaggio falsato che ci costringe oggi più che mai a sottolineare che le informazioni raccolte da loro non sarebbero oggi possibili senza l'azione insistente che la giunta ha portato avanti, scavando tra le macerie di una città abbandonata al suo destino. Ai personaggi che a vero titolo da un lato lamentano i disinvestimenti di Eni per poi vantare risultati, siciliano ricorda che è stata forte l'azione di negoziazione messa in campo da questa amministrazione nel sovvertire un intervento di poche migliaia di euro per l'escavo di un corridoio di uscita temporaneo in un investimento di milioni di euro per il ripristino funzionale di una infrastruttura portuale abbandonata da decenni. Non permetteremo a quei partiti, che dopo aver fagocitato ogni linfa vitale al territorio gelese e travestiti poi da gnellini incolpevoli, di rifarsi il look nel momento in cui l'amministrazione in carica inizia ad accogliere i risultati positivi di un lungo anno di faticoso lavoro di ricostruzione. Siamo disposti, di marca siciliano, ad avviare un percorso programmatico condiviso fermamente agganciato all'azione di governo basata sui pilastri già messi in campo in un anno di governo da questa amministrazione. La Giunta Comunale intende rassicurare al territorio tutto ed in modo particolare il Presidente del Coordinamento Donne per il Territorio e il Segretario Locale del PD dando conferma dell'esistenza di un progetto di sviluppo su cui si basa il redigento accordo di programma già da tempo condiviso con parti sociali, datoriali, imprese, l'intero Consiglio Comunale attraverso le commissioni consiglieri competenti e attraverso l'attivazione di un percorso di ascolto territoriale condotto da Nomisma e da Invitalia e coordinato in sinergia da Ministeri, Regione e Amministrazione Comunale per lo sviluppo di un'analisi di contesto basata proprio sui processi di partecipazione con gli attori sociali ed economici del territorio e di cui il coordinamento delle donne è stato un attore privilegiato. Rimane l'arrammarico, chiude il Vice Sindaco, che la smania di protagonismo di alcuni soggetti in cerca di visibilità elettorale sia arrivata solo nel momento in cui stiamo per raccogliere i frutti di un intenso lavoro durato un anno, con il rischio di rappresentare verso l'esterno una comunità non coesa sull'obiettivo finale, salvare Gela.